Sapevate che riciclando 150 lattine di alluminio è possibile realizzare il telaio di una mountain bike? Grazie all'attività del Cial, Consorzio Imballaggi Alluminio, l'Italia è oggi il primo produttore europeo di alluminio riciclato e il terzo nel mondo. L'alluminio riciclato è della stessa qualità di quello originale e viene impiegato nell'edilizia, nel settore degli imballaggi, nella meccanica, per i casalinghi o per la produzione del telaio di una bicicletta. Grazie a tutti!